La denuncia era partita alcune settimane fa quando un imprenditore modicano si era rivolto alla polizia denunciando i continui furti di carburante da ruspe, scavatori e cigolati presenti in una cava di estrazione di argilla in una zona periferica di Scicli. I gnoti si sono ripetutamente introdotti durante la notte nelle prime ore del giorno e dopo aver tranciato il lucchetto del cancello muniti di un tubo pompa sottraevano il carburante spostandolo in grandi contenitori. Il commissariato di Modica, a seguito della segnalazione, ha dato il via alle indagini che si sono svolte a tempo di record. Solo dopo pochi giorni dalla denuncia, gli agenti hanno individuato l'autore dei numerosi furti denunciati dal cittadino, che esasperato aveva riposto la sua fiducia nella polizia di Stato. Con una microtelecamera che era stata occultata tra le sterpaglie, è stato possibile individuare e risalire all'identità del ladro, proprio nelle vicinanze dei mezzi presi di mira. Infatti le riprese mostravano chiaramente la dinamica del furto e l'abilità con cui l'uomo di mezza età, dopo aver effratto il lucchetto del cancello, riusciva ad entrare nel cartiere e, indisturbato, aspirare con un tubo il carburante dei mezzi riempiendosi i bidoni. La polizia ha così potuto individuare un cinquantenne ciclitano incensurato che proprio poco tempo prima aveva fatto richiesta al commissariato per ottenere il rilascio del porto fucile. Infatti la comparazione delle immagini registrate dalla microtelecamera con la foto presente nella documentazione presentata all'ufficio di polizia amministrativa non lasciava alcuna ombra di dubbio sulla sua identità. A conclusione dell'attività investigativa, la polizia ha denunciato lo ciclitano, il quale dovrà rispondere del reato di furto aggravato e continuato, mentre la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.